È stato firmato questa mattina nella Chiesa Celestina di Santa Mera di Centurelli a Caporciano un protocollo d'intesa tra l'Associazione Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana e le associazioni comuni interessati dall'itinerario del Fuoco del Morrone e Cammino del Perdono per l'elaborazione di un piano di salvaguardia per la Festa della Perdonanza. Il Fuoco del Morrone e Cammino del Perdono è un elemento costitutivo unitamente al corteo della bolla del riconoscimento ottenuto nel 2019 dalla perdonanza come bene e materiale culturale dell'umanità dell'UNESCO, obiettivo garantire la trasmissione della festa in tutte le generazioni e accrescere la partecipazione della società civile portatrice degli aspetti tradizionali, culturali e spirituali. Si tratta del primo passo per il piano di salvaguardia della festa perché successivamente sarà sottoscritto anche un protocollo per quel che riguarda il corteo storico della bolla. Il tramandare alle giovani generazioni questo simbolo sia il fuoco che il corteo della bolla nelle scuole e fra la società civile praticamente dei comuni attraversati da questo territorio. Questo è il primo atto, è quello più importante se vogliamo perché è il più numeroso dei 17 sindaci, 18 sindaci del territorio mentre per quanto concerne il corteo della bolla è relativamente soltanto alle associazioni che sono solo ed esclusivamente aquilane se vogliamo o nei dintorni dell'Aquila. Il protocollo è l'arrivo, quindi una tappa importante per quanto riguarda il riconoscimento quindi la tutela del piano di salvaguardia della festa della perdonanza dell'associazione che dovrà essere elaborato e quindi che coinvolge tutti i comuni che da anni partecipano al passaggio del fuoco del morrone un passaggio molto denso di spiritualità ma anche di passione, di amicizie di presenze di giovani e di quanti altri associazioni presenti nel territorio che mano a mano sono cresciute in questi anni insieme con noi e siamo arrivati a questo grande traguardo che è una festa è un modo di stare insieme, è uno stabilire delle regole di partecipazione a un momento così importante che anche l'UNESCO se ne ha accorto. Nello splendido scenario della Chiesa Celestina presenti tanti sindaci del territorio per la firma, 18 coloro che lo hanno sottoscritto c'era anche Massimo Lesi che ha curato il dossier per l'importante riconoscimento UNESCO.